Grazie a tutti Il giornale fatto con la carta Si chiama Flava Ci sono i più figli Quindi ci saranno anche io Michel A.K.A. Il producer Leggetevelo Di queste cose ci dovrebbe essere pieno il mondo Flava Pissà Eccoci qua Da B.O. Direttamente a D.O. Che vi parla Mr. B Io sono qua per supportare Il magazine We Got Flava Della B.M.A. I Got Flava You Got Flava O We Got Flava Lo trovate in tutte le icone Hey Mr. B Includo il new CD Nuovo CD Left e Torno All'interno anche il singolo Prodotto da me Quello che voglio La persona remissi Il video C'è su YouTube Ma no Lefty che ne dici? Ci siamo o non ci siamo? È quello che vuoi? È quello che volete? O è quello che vuoi? Mr. B Beato Obviamente Ho Eirettamente Viendo Andi Io 4 2 2 Arenas E